Poteva finire in tragedia la notte di ferragosto sulla spiaggia di Campodimare Marina di San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi. Un ragazzo di 20 anni è stato ferito da un proiettile vagante che lo ha colpito di strisce un polpaccio. L'incidente è avvenuto alla presenza di oltre 20 persone che si erano radunate in spiaggia per festeggiare ferragosto. Improvvisamente il clima di festa è stato interrotto da colpi di arma da fuoco che hanno seminato il panico tra i presenti. Il malcapitato è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Fortunatamente le sue condizioni non dessano preoccupazione, il ragazzo è stato già dimesso. La zona è stata raggiunta dai carabinieri di San Pietro Vernotico che hanno avviato le indagini raccogliendo le testimonianze dei presenti per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Al momento non esclusa l'ipotesi che i colpi siano stati esplosi per festeggiare la notte di ferragosto, una pratica purtroppo non nuova e che si ripete anche a Capodanno quando l'uso improprio delle armi da fuoco diventa sinonimo di festa, senza considerare i danni che un proiettile può provocare.